Ehi là, io sono Andrei Pascu, questo è il podcast sui soldi. A dire il vero non sto più postando gli episodi qui su YouTube, li sto postando come podcast su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tutti i podcast, platforms immaginabili e inimmaginabili. Quindi se vuoi sentire questo podcast, vallo a sentire su queste piattaforme. C'è tipo un tutorial su come crescere su Instagram, un video su come essere soddisfatti di se stessi se sei un uomo. Quindi vai a dare un'occhiata a giro, troverai questi content. Prima di partire con alcune domande che mi avete lasciato su Instagram, quindi rispondo ad alcune domande di marketing, finanza personale, copywriting, eccetera. Prima di partire con queste domande, mi avete chiesto un sacco in DM dove ho preso questa maglietta. Reject Socialism, Embrace Capitalism. L'ho presa sul mio sito, queste magliette sono mie. Quindi se le vuoi c'è anche il mio logo sopra. Se le vuoi puoi cliccare il link qui sotto, c'è scritto shop di Andrei Pascu. Vai sullo shop e trovi le magliette oltre a tutti gli altri miei prodotti. Partiamo. Cosa ne pensi di ChatGTP? ChatGTP è un ottimo strumento, ci sta un sacco e sostituirà molti creator in generale che non fanno lavori ad alto livello. Quindi se sei un principiante o comunque fai roba di basso livello, sei finito. Cioè se tu hai sempre fatto i copy del tipo a formule e tipo fai copy paste e sostituisci qualche parolina nei headline e scrivi articoli, SEO articoli, quelle merda lì, quelle robe base, è finita. Devi saper fare copy strategico. Lo dico da tre anni, non è una cosa nuova per me, è una cosa perfettamente normale. Cioè è un bel po' che lo dico. Se non fai copy strategico ma ti limiti a creare contenuti che potrebbe creare chiunque, tipo articoli per blog, ottimizzati SEO, wow, complimenti. Oppure se prendi un paio di formule e sostituisci le parole, se tu sei quel tipo di copywriter sei finito. Se sei un copywriter di alto livello come me, anzi, sei messo molto molto bene, dovresti essere contento perché ChatGTP ti toglie la concorrenza, ti toglie tutti quei finti copywriter che ti stanno tra i piedi e adesso hai via libera per lavorare come si deve. Quindi è un'ottima opportunità per i copywriter, per i content creator, se fai content serio, serio essendo contenuto che è creato in maniera strategica considerando tutte le obiezioni e le conseguenze, non è facile creare content. Perché tanti pensano che fare copy o fare contenuti sui social è tipo scrivi il contenuto e lo metti lì. Come fa ChatGTP? No, va molto oltre e lo sanno tutti. È una cosa abbastanza scontata nell'ambiente digital marketing. e ChatGTP stesso se li lo chiedi ti dice no, non è neanche vicino al sostituire il judgment umano. Poi ci farò un video magari andando un po' più nel dettaglio, ma se vuoi fare copywriting io penso che l'opportunità sia più viva che mai. Solamente se lo fai serio però, se fai quel tipo di copy, tipo testi qualsiasi, allora no. E il miglior modo per spiegarlo è copywriting base da novellino, da principiante e copywriting strategico che puoi imparare a fare ed è una skill perfettamente sviluppabile. Ci sono persone che si fanno ancora pagare migliaia di euro per i copy. Cosa consigli a chi conosce la teoria ma non riesce ad applicarla? Se non riesce ad applicare la teoria, hai studiato la teoria sbagliata. La teoria dovrebbe essere esclusivamente verso il pratico. Ci dovrebbe essere oi devi fare questo, questo, questo e questo e questo. Al massimo alcuni concetti da comprendere per permetterti di orientarti meglio durante la parte pratica. Ma hai studiato la teoria sbagliata ed è per quello che la scuola è sfottuta, così come tutte le università che insegnano marketing. È così random, tipo ti insegnano a te queste cose a volte scollegate e ti sembrano utili perché effettivamente impari un sacco di cose. Solamente che non c'è un riscontro pratico. Io essendo imprenditore, avendo un'agenzia, spesso mi trovo a dover assumere persone, no? E faccio i colloqui con queste persone e si arriva, è la stessa cazzo di storia ogni volta. Che sono ragazzi appena usciti dall'università, sono freschissimi, hanno tipo non so 25-26 anni, hanno la loro incredibile conoscenza in comunicazione. E poi tu gli dici, senti, sapresti usare uno strumento come MailChimp, ActiveCampaigns, se devi fare una campagna di marketing cosa faresti? Se devi fare email marketing, che tipo di lead magnet faresti qui? Cosa faresti di qua? Come useresti chat GTP? Loro sono tipo, a livello pratico non sanno cosa fare, sanno un sacco di teoria, sanno un sacco di cose, ma non sanno mettersi lì e non sanno fare l'esecuzione, non sanno partire. E questo è il grande problema dell'università e della scuola. Quindi se stai studiando la teoria e non sai come applicarla, stai studiando la teoria sbagliata. Molto probabilmente. Probabile. Non è sicuro, ma è probabile. Nel caso di un musicista slash rapper, come potrebbe vendersi sui social mantenendo l'immagine da artista? Beh, tu devi farti conoscere, vabbè, numero uno, devi avere buona musica, quindi speriamo che tu abbia buona musica. Numero due, dovresti essere unico, quindi non basta fare buona musica, ma devi aggiungere qualcosa di nuovo. Se tu fai la musica identica a Salmo, perché mai dovrei sentire te e non sentire Salmo? Oppure se mi fai la musica come Sfera e Basta, non ho motivo di sentire te, mi sento Sfera e Basta. Quindi devi creare qualcosa di nuovo, devi metterci il tuo tocco sopra, che può essere nella musica stessa, oppure nella parte videoclip, nella parte artistica, nella parte come ti poni pubblicamente. Quindi possono essere varie cose, ma per qualcosa devi essere diverso. Per assurdo queste sono cose che spiego nel mio corso di copywriting, si chiama USP, Unique Selling Point, punto unico di vendita, ho fatto un video su TikTok l'altro giorno, 40k views, easy peasy. Sono tutti discorsi di, ok, numero uno, devi fare un buon contenuto, ok? Un buon prodotto, se il tuo prodotto fa schifo, la tua musica fa schifo, magari vai virale per due settimane, ma poi muori nel trash italiano. Poi, devi essere diverso per qualcosa, devi avere qualcosa di vendibile, che alle persone interessa, che può essere nella musica, nel tuo modo di comportarti, nei video, eccetera. Numero tre, fai TikTok e documenta. Ti faccio un esempio, facciamo che tu sei un artista e sei all'inizio, e cominci a raccontare, tu che fai un video musicale e tutti i problemi e le sfide che avete avuto, e fai questo video di uno o due minuti, in cui fai una raccolta di tutti i video, e racconti la tua esperienza facendo questo video musicale. Quello è molto facile, che se lo strutturi bene e ti fa 50, 100 mila views, queste persone, magari tu metti no alla tua canzone come sfondo, al video, queste persone poi magari vanno a sentire la tua canzone, ed è lì che ti generi questi follower, che sono anche molto interessati a quello che fai, perché sono parte del tuo processo. Quindi, secondo me TikTok è un'ottima opportunità per chiunque. Se vuoi crescere su TikTok, ancora c'è spazio, quindi ancora puoi farlo. E tra l'altro anche un corso, che costa 70 euro, quindi non costa niente, che ti insegna le strategie per vendere su TikTok se stessi, e cominciare a generare un pubblico veramente interessato a quello che fai. Unica cosa, questo corso è solo per quelli che fanno proprio video in cui parlano, ok? Quindi non balletti o scherzi, o tipo robe stupide di quel genere lì, proprio video strutturati in cui devi parlare, devi vendere, devi raccontare. Quindi se vuoi andare su quel tipo di content, il corso ci sta e te lo consiglio. Comunque sia, TikTok è veramente un'ottima via per esplodere. Perché fai un giorno digiuno alla settimana? Ok, per chi non lo sa, l'altro giorno ho detto su Instagram che io non mangio la domenica, proprio non mangio niente, al massimo bevo acqua, ma del resto nada. E lo faccio semplicemente per discomfort, per disagio. Letteralmente, solamente per uscire dalla zona comfort. È una cosa molto uncomfortable perché hai fame, perché ovviamente hai fame, e penso ci siano anche dei benefit a livello di salute, ma onestamente non lo faccio per quello, ben venga, ma non lo faccio per quello, lo faccio per mettermi a disagio. È molto importante mantenersi in equilibrio. Ho fatto un post su Instagram su sta cosa. Quando sei nel comfort, più rimani nel comfort, più vai da parte del comfort. Arrivi a un certo punto, superato un certo limite, che diventi veramente letargico, apatico, inattivo, diventi veramente un mollusco, ok? Non riesci più a muoverti, a fare cose, ad essere energico, è felice. Quindi sei costantemente nel comfort. Quindi per forza deve esserci qualcosa che ti riporta dalla parte giusta. E quello è il discomfort, quindi il disagio. Quindi troppo nel comfort, ok? Ti riporti di là, con cose che ti mettono a disagio. E per quello che faccio tutte queste cose, tipo, non so, correre senza maglietta nel freddo invernale la mattina, ok? Oppure la sera, dove c'è il buio, corro al freddo, no? Mi mette molto disagio. Non mangio la domenica. Faccio palestra ogni giorno. Tutte queste cose che mi portano all'estremo della mia mente e del mio corpo, perché è l'unico modo per riuscire ad apprezzare realmente tutto il resto. C'era questo video su TikTok che ho visto una volta, questo ragazzo che fa box, e dice una volta che inizi a fare box, tutto il resto diventa facile. Ed è vero, perché quando ti becchi i pugni in faccia, quando sei lì per tre minuti a dare colpi contro qualcuno, che se non hai mai fatto box non hai idea di quanto è faticoso, proprio a livello di cardio, è molto molto faticoso, dopo un po' non riesci manco più a tenere sulle mani, dopo che fai quello tutto il resto diventa facile. Quindi io faccio queste cose che mi mettono molto a disagio, perché so che devo rimanere in quell'equilibrio, per rimanere sano, per rimanere grato di quello che ho, perché altrimenti la mia vita è perfetta. Cioè ho troppi soldi, sono sempre nei migliori ristoranti, sempre in Uber, non sono mai al freddo, non sono mai fuori. Se c'è freddo io c'ho l'Uber, bro. Cioè se piove c'ho l'Uber, G. Manco c'ho l'ombrello, non ho mai avuto l'ombrello da due anni che vivo da solo, perché c'ho sempre il taxi o l'Uber, ho avuto sempre gli hotel migliori, sempre qualcuno che è al mio servizio. Quindi ci vuole questa cosa del, ok, mi metto a disagio in qualche modo, ed è molto importante che lo faccia anche tu, perché anche se non vivi come me, devi comunque rimanere in equilibrio. Quindi se vuoi provare a digiunare per un giorno, male non ti fa, quindi provaci. Top 7 libri che consigli in assoluto? A dire il vero io non sono un grande fan dei libri. Patrick B. David, che è uno che io stimo molto, lui è un grande fan dei libri e legge molto. Io no e ti spiego perché. La maggior parte dei libri realmente possono essere riassunti in cinque pagine. Del tipo, li riassumi in cinque pagine, fai lo step by step che loro ti spiegano, boom, done. Questo perché i libri sono fatti per intrattenere, da leggere, da consumare, devi rendere contento l'editor, no? Quindi la maggior parte non sono così utili. Tipo, un libro che io spesso consiglio sono le armi della persuasione, è, le armi della persuasione di Robert Cialdini, che è uno psicologo canadese o americano. Ehm, lui ci sta, è un ottimo libro, è fantastico, ma se tu guardi tutti quei concetti che lui spiega, li puoi riassumere tipo in dieci pagine. Tipo, sono veramente easy, sono veramente cose fast. Lo stesso vale per tanti altri libri, come The Bourbon Letters di Gary Albert, un altro libro che consiglio, ma lui si mette tipo a raccontare le cose che fa lui in prigione, lui come che andava su e giù per la collina e correva, bro, me ne frega un cazzo Gary, e inserimi a scrivere copy. Un libro che invece è molto molto utile, è più verso l'essere un manuale, è Claudia Hopkins Scientific Advertising. Quello è un ottimo libro, ha fatto la storia, Claudia Hopkins è tipo il secondo copywriter conosciuto, una roba del tipo, secondo o terzo, comunque tra i primissimi copywriter conosciuti, ottima storia, veramente interessante. Anche questo tra l'altro ne parlo nel mio corso, per assurdo, una delle pochissime cose storiche che insegno, giusto per avere un attimo le curiosità. Sì, allora, giusto per ripeterti, ci sta Scientific Advertising di Claudia Hopkins, alle armi della persona di Cialdini, Gary Halbert di Borrow Letters, e se vuoi un libro veramente serio, se vuoi il miglior libro di copywriting in assoluto, fisicamente possibile, prendi il mio. Il mio è il manuale del copywriter, e non c'è il libro migliore, perché non è un libro, è un manuale, c'è proprio scritto per essere usato, tu lo apri e trovi le strategie, e ti fa capire veramente molto deep come funziona, ed è molto difficile da riassumere quel libro, cioè perché è già riassunto, sono tipo 100 pagine, più di 100 pagine, è un ebook comunque, è digitale, è solo digitale, è veramente, veramente stretto, è molto, molto buono, pesante da leggere, infatti non è per niente una bella lettura, ma è la lettura che ti serve, perché l'obiettivo del libro non è essere bello, l'obiettivo del libro è essere utile, che spesso sono due cose che non sono tanto compatibili. Quindi top 7 libri, non sono tanto fan dei libri, non leggo più così tanto come un tempo, preferisco i riassunti, preferisco i podcast, al massimo gli audiolibri. Un libro invece di business, proprio in generale, ci sta La strategia Oceano Blu, che anche quella si può riassumere in una pagina, però vabbè, La strategia Oceano Blu ci sta, e un altro buono è Di Patrick Beddavid, Your Next Five Moves, è sulla strategia nel business. Qui mi hanno chiesto, la figura del copywriter è ricercata? Se sì, quanto? Assolutamente sì, e ti spiego una cosa, che ho intenzione di spiegare in un video su YouTube dedicato, ma ti spiego un discorso, quando un tool come ChatGTP, parlo ora spesso perché è un po' l'argomento del momento, quando un tool è accessibile a tutti quanti, ed è molto veloce, quello è il nuovo standard, che significa che se lo standard adesso è uno, il nuovo standard sarà ChatGTP, e se quello è il nuovo standard, quindi se tutti quanti fanno quello, perché è perfettamente accessibile a tutti, se tutti quanti fanno quello, che succede? Che si vuole un nuovo standard, ci vuole qualcosa di più alto, se vuoi vendere veramente, ed è lì che ci sono i buoni copywriter, e questi vengono pagati uno sfratto di soldi, perché sono più buoni del computer, c'è questo tweet, che è un tweet, letteralmente su Twitter, che ho visto l'altro giorno, che mi è piaciuto benissimo, perché la spiega super super bene, di nuovo queste cose le farò vedere anche nel mio video su YouTube, proprio dedicato, però dice, at this rate only those who can think better than computers will thrive, quindi solo coloro che riescono a pensare meglio del computer, riusciranno a vincere, e coloro che riescono a lavorare in maniera più economica, dei computer sopravvivono, quindi coloro che riescono a pensare meglio dei computer, vincono, coloro che riescono a lavorare più economico dei computer, sopravvivono, e lui dice, vabbè, vuoi vincere, o vuoi sopravvivere, la tua scelta, e sono super d'accordo su questa cosa, ora, pensare meglio di un computer, è abbastanza difficile, dipende cosa intendi per pensare, perché chat GTP, ha accesso istantaneo, a tutte le informazioni di sempre, il punto è che, non ha quell'input umano, non ha il pensiero strategico, e non ha soprattutto la capacità emotiva a chi ha un essere umano, quindi, sì, i copywriter sono richiesti, ma diventa difficile, ed è importante che tu impari dalle persone giuste, secondo me, più una cosa è difficile, meglio è, a me piace fare le cose difficili, perché se sono difficili, le fanno meno persone, se le fanno meno persone, si guadagna di più, si fanno più soldi, se una cosa è facile, i soldi fatti sono pochi, quindi più è complesso, più sono contento, però devi imparare dalle persone giuste, perché se impari da quelle sbagliate, ti succede che, impari roba che non ti è realmente utile, roba che è troppo facilmente sostituibile, come spiegavo prima, che sto, c'ha GDP, toglierà il lavoro ai copywriter, no, no, se sei un buon copywriter, no, però se fai schifo, sì, assolutamente sì, perché c'ha GDP è bravo, devi sapere scrivere copy, devi imparare da quelli che lo fanno veramente, tipo me, come faccio ad acquisire fiducia con un cliente, se non ho credibilità, anche se questa si acquisisce chiudendoli, la credibilità, la fiducia, non si acquisisce chiudendo, ti serve proprio fiducia per chiudere, quindi prima la fiducia, e poi chiudi, e per ottenere fiducia non devi solamente parlare, anzi, parlare è il secondario, devi dimostrare, tutti questi cazzo di coach di vendita, non funzionano più quelle robe, quei cazzo di, 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 i soliti template, le solite frasi, le solite cose, non funziona, ok, le solite cinque cose che insegnano tutti, non funziona, perché sono cose che dicono tutti quanti, quindi non sei diverso da nessuno, sei proprio uguale, puzzi di vendita, ma proprio che si sente pesante, anche queste sono cose che spiegano i miei TikTok pesantemente, devi dimostrare, c'è basta parole, sì va bene, è utile saper parlare, è utile saper gestire obiezioni, assolutamente sì, ma basta parole, un po' più fucking fatti, ok, facts, no cap, only facts, lo dico sempre, no cap, only fucking facts, perché tu cosa devi fare? Devi guidarmi un cliente, e facciamo che sei completamente nuovo sul mercato, non hai nessun tipo di esperienza, sei completamente nuovo, come faccio io a fidarmi di te? Eh, ti prometto che, e ti dico che bla bla bla, queste sono parole, io voglio i fucking facts, quindi i fatti come me li dai? e li dai attraverso un contenuto gratuito, quindi ancora prima di chiedermi soldi, fammi vedere, quindi sì, all'inizio dovrai lavorare un minimo gratis, per dimostrare che sei capace, una volta fatto quella prova gratuita, è lì che chiedi soldi, lì lui si fida, perché ormai ha visto i tuoi risultati, ha visto che sai fare, quindi al posto di promettere, 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 comincia a dimostrare, garantisco che se fai questo sacrificio, e lavori in questo modo, con questo mindset del, nessuno mi deve niente, sono io che devo dimostrare, sarà molto più facile, soldi proprio che arrivano easy, perché è uno switch fondamentale, le persone sono così arroganti, porca puttana, proprio i poveri, i poveri sono le persone più arroganti che ci siano, perché vogliono cose, ma non fanno niente per guadagnarsele, e loro pensano di meritarsi le cose, non ti meriti, se non ce l'hai non te lo meriti, lavora di più, Dio c'ha GDP, mi ruba il lavoro, non è giusto, non è giusto, si si che è giusto, sei tu che non stai innovando abbastanza, sei tu che non cambi, sei tu che non hai le vere skill, sei tu che non stai dietro al mercato, gente che sta dietro al mercato, come me, che sanno cosa succede nel mondo del marketing, che hanno vere skill, che hanno vera clientela, non quella roba da due soldi, tranquillissimi, quindi cambia il mindset, comincia a pensare come riesco a dimostrare alle aziende, chi sono realmente, meno parole, più fatti, anche le parole sono importanti, perché devi fare e dire, così almeno hai entrambe, hai il meglio di entrambi i mondi, the best of both worlds, ma è comunque più importante dimostrare, finché tu sai vendere, e li dimostri che sai vendere, e lui ti crede quando dici, oh io so vendere, non ha motivo per non assumerti, non importa quanti anni hai, non importa da dove sei, non importa che qualifichi hai, se tu sai vendere, e glielo dimostri, è a posto, come copywriter, e per quello che chiaramente ci sono i content come questo, che cerco di darti la mano, ok questo, quant'è che registriamo, sono 20 minuti che stiamo parlando, teniamolo abbastanza breve, se hai domande, oppure comunque ci sono argomenti che tu vuoi che tratti del mio podcast, scrivimi su insta, e mi raccomando, dal prossimo episodio, lo trovi solamente su spotify, su apple podcast, su google podcast, comunque lo trovi solamente come podcast, quindi qui su youtube, non lo facciamo più di tanto il podcast, quasi per niente, quindi trova i content di là, trovi altri episodi fighi come questo, ah e se ti interessa copywriting mentorship, il mio corso, il link sta qui sotto, è il migliore, ciao!